Quest'oggi parliamo del Virgin Island Bayroom. Un aftershave che molti di voi conosceranno, il Virgin Island Bayroom, o più semplicemente Bayroom. Partiamo subito col dire che questo dopobarba è tra i più venduti del noto marchio Pinol Clubman. Perché tra i più venduti? A mio avviso perché il disegno è molto bello. Io stesso ne sono stato rapito da questo vascello, da questo galeone pirata, e l'ho acquistato a scatola chiusa. Oltre al fatto che la casa produttrice di questo dopobarba è, come vi dicevo, la famosa Clubman. È un'azienda in attività dal 1810, adesso ha trasferito i suoi stabilimenti negli Stati Uniti, e, piccola nota di colore, vanta tra i suoi clienti niente po' di meno che Kirk Douglas e Donald Trump. A dispetto di quanto può sembrare, la confezione non è di vetro, ma è di plastica. È una bottiglia di plastica che anche sul lato presenta in rilievo il marchio della casa produttrice. Il formato di questo dopobarba è quello da 177 ml, ossia 6 once americane. Ma molti di voi si chiederanno, di che cosa sa questo aftershave? Ebbene, la nota aromatica principale che sentirete è quella dei chiodi di garofano. Avete sentito bene? Chiodi di garofano. Onestamente a me non piace, però ormai l'ho comprato e quindi ogni tanto lo utilizzo. E vi assicuro che bastano pochi spruzzi per diffondere tantissimo il profumo di questo dopobarba. Dico spruzzi perché io lo uso, ad esempio, con il diffusore. È un diffusore di quelli piccoli, che quindi si avvita benissimo sulla testa di questo dopobarba. L'essenza ufficiale di questo aftershave è quella del bay tree, che magari non vi dirà molto, quindi cerchiamo di ricondurlo a qualcosa di più noto. I chiodi di garofano, appunto, è la nota aromatica principale, ma personalmente ci sento anche del mentolo. Questo dona anche una certa freschezza al prodotto, ma molto lontanamente ci sento anche, ebbene sì, della canfora. Avete presente quella che si usa o che si usava negli armadi per preservare i vestiti? Questo dopobarba mi ricorda tantissimo il profumo degli armadi chiusi da un po'. Che non è la miglior pubblicità che si possa fare a questo dopobarba, però per i nostalgici sarà un tocca sana. Piacerà tantissimo a tutti coloro amanti degli aromi tradizionali, amanti del vintage, amanti dei profumi che si usavano una volta. Il prezzo di questo prodotto varia tra i 12 e i 16 euro, in ogni caso vi lascio il link per acquistarlo direttamente nella descrizione di questo video. Aspetto di sentire i vostri pareri su questo prodotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.